89esima edizione di Pitti Bimbo qui alla Fortezza d'Abbasso di Firenze un'edizione speciale con bambine vestite come principesse e bimbi come piccoli lord ma ci sono anche delle taglie molto comode Il vostro brand è un brand giovane, è un brand che vedo con molti colori e comodo per i bimbi? Sicuramente sì, ci sono qui due piccoli testimonial che apprezzano molto la vestibilità di questi capi semplici, freschi, estivi, colorati, con dei cartoon che vogliono in qualche modo richiamare il mondo dei bambini quindi molto semplici Che tipo di materiale usate? Abbiamo prediletto materiali naturali, quindi 100% cotoni, freschi e vestibili per i bambini per cui ci sono dei popen di cotone, gabard di cotone, felpa e jersey Una collezione particolare questa direi? Sicuramente una collazione innovativa che trova freschezza e soprattutto rispondenza nel mondo dell'adulto perché c'è una corrispondenza, un mini-me al 100% e questo è un trend sicuramente molto interessante che noi abbiamo seguito da sempre Del resto Lorenzo Serafini che è il creativo che dedica la sua attenzione a questo prodotto tiene molto che ci sia proprio affinità Per quanto riguarda Gmail ci mette il proprio bagaglio esperenziale 40 anni, anche più di 40 anni nel mondo del bambino quindi tutto il know-how di Gmail viene trasferito sul prodotto e ne fa di questa collezione veramente un prodotto di grande levatura Un bambino molto... è una bambina molto molto elegante direi? No, è una bambina che sicuramente è al passo con i tempi è una bambina esigente, è una bambina dal buon gusto è una bambina a cui piace il bello e soprattutto è una bambina a cui piace imitare la mamma